Partenza speciale e inedita per il treno storico sui binari della Transiberiana d'Italia, sabato 10 ottobre, in occasione della terza erizione della Festa della Mela a Castel del Giudice, unica data in calendario con questo itinerario. Partenza da Sulmona alle 9 per vivere il fascino del viaggio lento a bordo di carrozze d'epoca, tra i boschi variopinti della Maiella e della Valle del Sangro, da mirare da Finestrino fino al borgo di Castel del Giudice, alla scoperta dei migliori produttori biologici e naturali del Molise e dell'Abruzzo, con un programma tra degustazioni, visite guidate, almereto biologico, escursioni della natura in e-bike, prodotti tipici, laboratori e spettacoli musicali. Castel del Giudice ha intrapreso un percorso di rilancio e contrasto allo spopolamento, un albergo diffuso con centro benessere e ristorante con cuochi provenienti dall'Accademia dello Chef Stellato Nicoromito, una cooperativa che ha rigenerato fondi agricoli abbandonati, convertendo 40 ettari in mereto biologico e un'azienda di confetture bio, fino ad aggiungere un birrificio agricolo e all'apiario di comunità e alla scuola di apicoltori.